Avevano lanciato un appello alle forze dell'ordine e al comune di Fano per aumentare i controlli e adottare provvedimenti definitivi. I residenti di Centinarola e Fano2 chiedevano da tempo una soluzione per porre fine al problema del passaggio non consentito di auto, moto e apecar nel sottopasso di Via Fanella. Una situazione definita pericolosa per i pedoni e i ciclisti che transitano in questo tratto di strada, loro dedicato, che collega i due quartieri di Fano. E oggi, dopo l'intervista trasmessa venerdì scorso nel telegiornale Occhio alla Notizia, arriva la risposta dell'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli. In seguito alla sperimentazione non abbiamo cambiato idea sul futuro di questa strada, quindi rimarrà ciclopedonale. Ci scusiamo per il ritardo perché è un po' di tempo che questi New Jersey sono presenti, li abbiamo caricati più volte di acqua per poter fare in modo che la gente non li spostasse, però evidentemente qualcuno non rispetta le regole e quindi è comunque passato, parlo ovviamente di macchine oppure motorini. Dopo Ferragosto metteremo in maniera definitiva, anche in seguito all'ordinanza, dei parapedonali proprio vicino al sottopasso perché dobbiamo lasciare questo tratto di strada comunque transitabile per i mezzi agricoli dei campi intorno. Le auto quindi troveranno l'accesso bloccato e il Comune provvederà anche ad installare la segnaletica verticale per avvisare i conducenti. Per quanto riguarda i motorini, ovviamente ci rifacciamo anche un po' al buonsenso dei cittadini. Non possiamo in questo momento mantenere una pattuglia 24 ore su 24 su questa zona, le telecamere in questo momento non sono previste, quindi probabilmente qualche motorino passerà perché se passa una bicicletta passa anche un motorino, quindi speriamo nel rispetto delle regole dei cittadini. L'assessore poi ha risposto alla richiesta di un'adeguata illuminazione. Ci sono dei fari, sono anche collegati, deve prenderli in consegna a Aset, adesso mi assicurerò che questo venga fatto, comunque andrò a approfondire il motivo per cui non sono accesi, ma sicuramente garantiremo anche l'illuminazione notturna.